bentornati cinefili qui sul canale di movie planet io sono sempre victor laslo 88 e oggi voglio parlare di un film di cui ho sentito discutere in maniera molto transciante negli ultimi tempi perché è molto divisivo mi riferisco a una pellicola del 2021 per la regia di nanni moretti ed è tre piani allora questo film non mi è piaciuto neanche un po è tratto dall'omonimo romanzo di eschol nevo che è ambientato in israele quindi già c'è una traslazione dall'ambientazione israeliana quella italiana e che però non è necessariamente un difetto perché se vi ricordate il capitale umano che mi era piaciuto molto i paolo virzi tratto al romanzo di steven emidon era ambientato in brianza mentre il romanzo si ambientava se non sbaglio nel sud degli stati uniti anzi lo stesso emidon disse che secondo lui l'ambientazione brianzola era ancora migliore rispetto a quella scelta da lui per il proprio romanzo per cui non significa nulla non è questo il problema il problema è che ha avuto 11 minuti di applausi se non sbaglio a can se non erro non ricordo se la violenza in parecana comunque 11 minuti di applausi che io non mi spiego questo film per me incarna uno dei problemi che abbiamo avuto in italia a livello cinematografico negli ultimi anni prima che si tornasse timidamente al genere e poi in maniera un pochino più prepotente tant'è vero che si stanno attendendo freaks out di mainetti e diabolic dei fratelli manetti i mainetti e manetti che sono comunque due film di genere evidentemente c'era una macro divisione in due aree la macro area del drammone e la macro area della commedia buon mercato ecco questo film a me sembra gestito come il classico drammone quei film che ti mettono quel quell'ansia sociale anche se vogliamo e io permetto che i moretti mi piace io moretti lo adoro dai tempi dieci bombo palombella rossa e quant'altro poi crescendo e maturando ha iniziato a realizzare un altro tipo di cinema a me non aveva fatto pensare che fosse brutto caos calmo mi era piaciuto il caimano che era molto ironico super rusconi mi consiglio guardarlo la stanza del figlio che secondo me non era affatto male li valsa la palma d'oro nei primi anni 2000 mia madre era un film decisamente meno interessante dei precedenti ma era un film molto personale era un film che lui aveva dedicato alla madre defunta in cui si dipingeva come il figlio che avrebbe voluto essere interpretava un personaggio minore uno dei figli della donna ma la protagonista margherita bui e devo dire che sinceramente questo tre piani non mi è proprio piaciuto io lo considero uno dei film meno interessanti di moretti nonostante tanti dicono no è bellissimo è meraviglioso dio allora qui si è verificata una situazione interessante quando ho parlato di dune facevo riferimenti al libro in tanti mi hanno detto è però il libro il libro il film è il film è davvero io nella recensione ho cercato di parlare del film riferendomi anche al libro ma dicendo che comunque so perfettamente che il libro il libro il film è il film e quindi cercavo di analizzare più che altro come il libro come il film si era posto nei confronti del libro ma sempre considerando che sono due cose separate qua invece quando io mi sono lamentato del film in tanti sono venuti alcuni erano gli stessi tra l'altro che mi hanno fatto il discorso del libro del film di dune quindi vale solo quando il film non piace loro evidentemente a dirmi è ma guarda che nel romanzo questa cosa è spiegata bene ho capito ma nel film no cioè è un film che racconta tre storie differenti di tre famiglie che abitano nello stesso palazzo il palazzo è chiaramente una sorta di metafora dell'umanità perché la cosa che mi fa ridere è che in questo palazzo queste tre famiglie vivono situazioni ai limiti della sfiga più nera e sembra che questo palazzo concentri tutte le sfighe le cose più brutte che possono succedere alle persone nell'umanità lì quindi non ha granché senso se togli la metafora con la metafora sul fatto che queste tre famiglie rappresentano l'umanità ci sta e fondamentalmente sono tre storie ma anche interessanti per amor di dio il problema è che la prima parte mi è piaciuta nel senso che mi faceva mi voglia di capire dove sarebbero andate a parare nella seconda tutto è dilatato allungato fino all'inverosimile e si arriva a un punto in cui sembra che il film stia durando 16 ore ne dura circa due quindi mi ha proprio tediato uno dei film più noiosi ma non noioso perché il ritmo è lento noioso perché a un certo punto quello che racconta non mi interessava più ero lì che dicevo sì ok basta a un certo punto l'ho avvertito chiaramente era andato oltre quello che poteva interessarmi il racconto non aveva più mordente e in tanti mi hanno detto è però victor tu non hai capito la metafora i tre piani sono le tre divisioni del dell'essere della coscienza io superio e es bella interpretazione è nel libro molto chiaro mi fa molto piacere che l'autore nel suo libro abbia reso chiaro che fossero tre rappresentazioni distinte io superio e es ma dal film questa cosa non traspare minimamente in nessun modo io perché il romanzo non ho letto in nessun modo io guardando il film avrei mai potuto pensare ma sono chiaramente le rappresentazioni di io superio e es no no cazzo mi dispiace ma no non è proprio una cosa che non sarei riuscito a comprendere il cast è anche buono c'è margherita bui che per me non è che non sia una bravattrice problema è che la bui da 30 anni interpreta sempre lo stesso personaggio la donna nevrotica insoddisfatta della vita di quello che la circonda cioè io non so se lei sia così ma mi dà l'impressione che lei possa interpretare solo quel ruolo perché di fatto interpreta se stessa un po come alessandro haber che anche lui bravo attore ma interpreta sempre l'omino nervoso e neurotico che è un po lui quindi più che essere dei bravi attori sono dei bravi caratteristi per l'amore del cielo cioè la buia è sempre è sempre lì con le frasi a mezza bocca parodizzate da vendruscolo torre c'era pico per il film di boris mariglita loic tutto così la buia è così la buia è la nevrotica che parla e poi dice le frasi a mezza bocca parlando più se stesso che con il personaggio che ha davanti è sempre così margherita a voi se ci fate caso ogni ruolo lo interpreta la stessa maniera bene perché brava a fare quel ruolo ma è sempre lo stesso ruolo moretti che è questo padre severissimo che ha dato un'educazione terrificante al figlio e si cazza pure quando poi i frutti di questa educazione vengono fuori peraltro moretti direi che quasi statuario in questo in questa interpretazione ma in un senso diverso da quello che potete pensare statuario nel senso letterale di statua cioè come se fosse passato sul set stesse chiedendo se poteva avere un cestino col panino con la mortadella in più no tipo parla tutto così e basta cioè non mette emozione non mette niente ha poche scene è un personaggio importante ma che non ha grandissimo screen time e che rappresenta l'oppressione di una società che ti vorrebbe perfetto di una società che non accetta le tue imperfezioni i tuoi difetti una società che ti vorrebbe come dicono loro ok i cosiddetti loro loro vogliono che tu faccia così per loro si intende la società i ben pensanti mentre invece margarita bui è la rappresentazione sempre della persona indottrinata dalla società che non ci sta non vuole starci ma non è abbastanza forte caratterialmente da poter dire io qui non ci sto e quindi ci sta ma male in cuore quindi moretti la bui e il figlio di questa coppia di giudici la crema della società e sono tre rappresentazioni dell'essere umano inserito in una società che spesso può stare stretta il padre è l'uomo tutto d'un pezzo che in questa società ci sta bene perché lui fa parte di coloro che ti dicono come devi comportarti la madre che è la margarita bui è la donna che è la persona che non non ci sta ma rimane lì il figlio invece è il ribelle il figlio è quello che esce dagli schemi è quello che fa le cazzate fa qualcosa di molto molto grave ma non cerca tanto una redenzione da se stesso ma dagli altri rifiuta quella società ma vorrebbe disperatamente piacere alla società che lo vorrebbe in un certo modo in cui non riesce ad essere quindi il fatto che il figlio si comporti da stronzo è un prodotto di quello che è la società poi c'è l'altra famiglia che è rappresentata da madre padre figlio quindi sono sono sempre famiglie tradizionali a questo interessante no come a dire nella normalità si nascondono luci e ombre e questa è una cosa che può anche essere interessante per l'amor del cielo l'altra famiglia rappresenta diciamo l'ossessione lo stigma sociale lo stigma sociale tra l'altro questa storia così mi hanno detto nel libro è lasciata molto più aperta non si sa cosa è successo in un certo contesto che avviene nel film nella storia mentre nel film c'è una risoluzione non vi dico se buona cattiva o media vi dico solo che c'è una risoluzione il che la rende estremamente meno affascinante l'ossessione di quest'uomo che un giorno lascia la figlia dei vicini succede qualcosa e lui ha un dubbio e non riesce a togliersi questo dubbio cosa che lo porterà a fare qualcosa di cui non va fiero è una storia di rapporti familiari è una storia di errori umani ma soprattutto di ossessione di cosa l'ossessione può portare a fare e poi c'è la storia di questa donna che ha avuto un figlio da un uomo con cui sposata ma con cui ha pochi rapporti perché lui è sempre via per lavoro e ha dei problemi a livello mentale per cui inizia a fondere realtà e fantasia in alternanza ora il fatto è questo il fatto che sono tre storie che potrebbero anche essere interessanti io non lo metto in dubbio non dico che non possono essere interessanti dico però che sono storie che sinceramente mi hanno preso fino ad un certo punto cioè io ho capito le metafore che moretti voleva mettere in scena adattando il romanzo di elcov però il problema è un altro il problema è che il ritmo non funziona ragazzi il ritmo non funziona non puoi farmi una prima parte che ti promette di arrivare a un dunque a un qualcosa una conclusione salvo poi farti arrivare a un momento in cui non c'è più granché da capire cioè come se il film dovesse finire mezz'ora prima ma sia voluto comunque stoicamente andare avanti allungando il brodo tra l'altro nella storia della famiglia quella sull'ossessione il capo famiglia è riccardo scamarcio che comunque migliorato molto come attore non trovo che abbia dato una brutta interpretazione da un punto di vista delle interpretazioni devo dire che il film comunque se la cava perché non considero scamarci un grande attore ma sicuramente se pensate che ha iniziato con fin come tre metri sopra il cielo sopra il cielo è sicuramente migliorato tanto e fa il suo fa quello che è richiesto dal ruolo interpreta quest'uomo che non è né buono né cattivo è una persona con i suoi pregi i suoi difetti è un bravo papà e per amore della figlia fa delle cazzate incredibili insomma è un personaggio che comunque è stato interpretato piuttosto bene devo dire mentre invece la donna che ha problemi mentali è alba rorvaker la rorvaker io ragazzi lo so che per molti la rorvaker fa sempre i ruoli in cui interpreta questo personaggio svampitello buono di buon cuore però io la adoro cioè non credo che sia così diverso dal discorso della bui il problema è che è molto meno irritante quello che fa lei c'è il modo in cui interpreta il personaggio le danno sempre ruoli della delicatina ma a me piace poi in realtà ha dimostrato di saper fare anche altro quindi per me la rorvaker è più brava della bui per quanto la bui sia considerata una grande attrice io trovo che la rorvaker sia veramente veramente brava mi piace tantissimo anche un viso molto particolare quindi io l'ho sempre apprezzata tanto come 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 attrice come professionista vi dico che sinceramente è il personaggio che mi è piaciuto di più è il personaggio che mi è piaciuto di più perché è una donna anche lei nel contesto sociale della donna un po sottomessa al marito che vorrebbe che la situazione cambiasse ma non hai coraggio di dirlo e che è spaventata da tutto è spaventata dall'essere madre spaventata dalla vita è spaventata di diventare come sua madre è una donna un personaggio in cui la maternità gioca un ruolo fondamentale tanto per il rapporto che ha con la madre tanto per il rapporto che ha con la figlia e tanto per quanto il suo essere madre condizioni ogni aspetto della sua vita e della sua psiche quindi mi è stato detto tu il film non l'hai capito no io il film l'ho capito perfettamente tutte le metafore il contesto sociale il contesto dei tre diciamo delle tre aree dell'io della coscienza le ho capite questa cosa della coscienza l'ho capita dopo perché vi giuro mai ci sarei arrivato però il punto è questo non puoi venire a dire eh però nel libro ti dicono che ho capito ma 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 potrei capire se ne tipo in dune no io ho detto i mentat uno spettatore non può capire cos'è un mentat se non te lo dicono se non te lo dicono nel libro è spiegato nel film no perché lo vorranno spiegare probabilmente nella parte due ci può stare può starci secondo me quindi non si può dire eh ma nel libro lo spiegano ho capito allora mi leggo il libro perché moretti non ha saputo secondo me estrapolare ma non tanto la sceneggiatura perché alcuni dicono eh ma cosa c'entra moretti la sceneggiatura non è sua vero verissimo ma capisci che da quello che mi hanno detto nel libro questa cosa non è esplicitata è fatta capire e allora tu devi essere bravo come regista a prescindere dalla sceneggiatura a mettermi in scena bene tutto quanto invece registicamente è un film che non è veramente nulla di che non ha momenti in cui ho pensato wow che regia incredibile non è neanche una regia ispirata come di solito sono le regie di nanni moretti è un film che vuole parlarti della natura umana ma lo fa con pigrizia lo fa con una messa in scena che secondo me non è per niente funzionale non c'è un solo momento a livello visivo che mi abbia comunicato angoscia come me l'avrebbe dovuto comunicare la storia non c'è c'è uno scollamento non c'è adesione tra la messa in scena e la regia e ciò che il film ti sta raccontando colonna sonora dimenticabile ma che ammetto nel mentre quando si guarda il film fa il suo dovere niente da dire però per il resto che cosa abbiamo un film che dura due ore piene che a me personalmente ha proprio annoiato mi ha annoiato perché non ha saputo tenermi incollato allo schermo facendomi pensare questa storia secondo me è piuttosto interessante non sono riuscito a vederla in questo modo non ce l'ho fatta non sono proprio riuscito a sentirmi coinvolto in quello che stavo guardando zero c'è riuscito nei primi nella prima mezz'ora perché lui che diceva ma cosa dove vuole andare a parlare ma cosa mi sta raccontando il film tra l'altro non mi è piaciuta neanche la suddivisione di cinque anni in cinque anni ti raccontano parte della storia timeskip di cinque anni ti raccontano parte della storia timeskip di cinque anni quindi queste tre storie si svolgono nell'arco di dieci anni con un epilogo che è sicuramente simbolico ma che mi ha lasciato abbastanza freddo devo essere sincero le relazioni umane molto spesso non le ho trovate soddisfacenti quindi è l'unica cosa l'unico termine che riesco a trovare per questo film è pretenzioso è un film che pretende pretende di servirti sul piatto di ceramica quello delle grandi occasioni delle metafore che però sono gestite in maniera banale pretende di farti riflettere sulla natura umana ma anche qui non è riuscito a comunicarmi qualcosa che non mi sapesse di già visto e di trattato anche in maniera superficiale perché per quanto queste metafore vogliono essere altisonanti e grandi sono tutte cose che ho già visto e che non mi sembrano niente di particolarmente interessante per cui è un film che avanza che accampa delle pretese ma che non può soddisfare cioè sono pretese che non cioè è come se io presentasse un critico gastronomico un piatto cucinato col culo e pretendessi che lui mi dia 5 stelle non puoi farlo non è un prodotto che ti fornisce una qualità tale da poter soddisfare le pretese che avanza è un film che sembra volerti dire dimmi che sono bello dimmi che sono un gran film dimmi che ti ho emozionato no non ci sono riuscito ho visto un moretti pomposo tanto l'interpretazione quanto la regia ho visto un moretti stanco anche scarico non lo so non sono riuscito ad apprezzare quasi nulla che riguardi questo tre piani cioè per me più che tre piani sono due coglioni i miei quelli che sono rotolati rotolati fino al fondo della sala che ho visto anche 20 minuti a cercarli alla fine non sono riuscito a fare un piacere con questo non sto dicendo che chi l'ha apprezzato sia scemo o sia un pirla assolutamente no se l'avete apprezzato tanto meglio per voi tanto meglio per voi che siete riusciti a cogliere qualcosa laddove io ci ho visto solo pretenziosità spocchia anche una certa spocchia incarna proprio quella macro area in cui si è impantanata per anni il cinema italiano del film lento che ti racconta il dramma umano ma senza mai arrivare realmente ad un punto quindi no per me non è stato per niente un bel film per quanto alcune scene non mi siano dispiaciute come la maggior parte delle scene con la roar wacker la scena del bosco che ti mette una certa tensione perché comunque ci sono dei momenti in cui il film ti coinvolge il problema è che sono pochi e soprattutto non c'è un seguito a qualcunvolgimento almeno non c'è stato per me quindi mi va bene che vogliono dirmi ah la coscienza l'es il super io quindi è da una parte l'io con l'egocentrismo di questi genitori che è quella per quello per l'appunto della storia dei due giudici del figlio il super io con l'ossessione qualcosa che va oltre la semplice la semplice realtà dei fatti poi c'è l'es ovvero la parte più profonda la parte più dell'inconscio che è quella della storia di albero wacker che per l'appunto va nei meande della propria psiche senza neanche accorgersi iniziano a confondere ciò che è vero con ciò che in realtà è solo immaginario va bene d'accordo posso trovare questa interpretazione però se ci pensate è un po' tirata cioè è così che voleva l'autore ma come l'ha messo in scena moretti a mio modesto parere funziona molto poco cioè se uno te lo viene a dire però capito qualcuno mi ha detto eh dovresti leggere questo saggio eh dovresti leggere quest'articolo ho capito ragazzi ma se io vado a vedere un film ma è possibile che per capirne il significato devo andare a leggere articoli a leggere saggi no il film deve essere un'opera autosufficiente se un film non è autosufficiente per per l'amor di dio donni d'arco donni d'arco è un film molto difficile però se ci rifletti bene le metafore di donni d'arco sono tranquillamente comprensibili poi si presta tante interpretazioni quindi non vuole neanche che ci sia un'interpretazione univoca per cui quando un film vuole essere lasciato alla libera interpretazione dello spettatore ci sta va bene ma qui il film vuole chiaramente darti delle metafore che devono essere capite non è che si presta tante interpretazioni è un film piuttosto lineare in tal senso non è un donni d'arco o un film di lynch porca puttana poi lynch stesso dice ma non ci sono interpretazioni io volevo ho fatto quello che volevo fare in quel momento andare a fare quello poi non è vero perché le interpretazioni di film lynch ci sono ma capito lì magari il saggio lo vai a leggere perché ci sono motivi di studiare tutto quanto però porca miseria non stiamo parlando di lynch stiamo parlando di tre piani di nanni moretti devo andarmi a leggere un saggio per capire tre piani di nanni moretti ma non esiste nel mondo ma neanche neanche ci spendo il tempo per leggere un saggio su questo film ma ve prego cioè fosse sto filmone ma io devo andare a leggere saggi articoli su un film che mi ha pure fatto cacare ma non esiste il film un film deve essere principalmente autosufficiente se no ha fallito nel suo intento nel momento in cui finisce c'è la metafora dell'io superio s e non si capisce se non te lo dicono il film ha fallito nel suo intento punto ha fallito nel suo intento perché è una metafora importante e se questa metafora non si può capire senza che te lo dicano mi spiegate allora cosa la metti a fare deve essere chiaro allo spettatore perché non sono tutti i spettatori colti sulla filosofia sulla psicanalisi no deve essere un un il film deve deve comunque essere comprensibile dall'utente siamo siamo tante persone diverse non possiamo pensare che ogni volta tu devi andare a studiarti il saggio di 300 pagine del tal professore no per l'amor di dio poi uno se lo può anche leggere però è assurdo ragazzi molto semplicemente quindi secondo me tre piani è un film piuttosto fallimentare che però ha diviso molto c'è chi dice che è bellissimo c'è chi come me che dice che boh non è un film da osannare così tanto lo stesso autore ha elogiato il film e questo viene preso come esempio come dire visto anche l'autore è piaciuto sì siamo d'accordo anche steven king ha elogiato un sacco di merda che hanno fatto dai suoi libri però cosa anche perché l'autore ha venduto i diritti per il film no cosa pensavate che dicesse l'autore sì questo film mi fa cagare non si capisce un cazzo della metafora che io ho inserito all'interno no dice che il film è piaciuto e che è contento che moretti abbia espresso al meglio quello che lui aveva scritto nel romanzo non poteva certo dire il film mi ha fatto cagare ragazzi non è sapkoski a cui non gliene frega un cazzo e se qualcosa di the witch gli fa cagare dice mi fa cagare il cazzo perché il primo lui va a detestare quello che ha scritto perché sapkoski è un po' particolare quindi capite bene che non è che l'autore poteva dire è un po' una merda il film è ovvio che dice che è bello grazie in promozione tra l'altro nel periodo della promozione in cui il film sta uscendo cosa pensavate che dicesse tra l'altro mi dicono che il fatto di spostarlo dall'israele all'italia ha fatto perdere di mordente alcune storie che erano molto radicate al conflitto tra palestinesi e israeliani hanno detto che c'è però quello non importa perché nel momento in cui tu lo adatti a un contesto italiano togli quella cosa e magari riesci comunque a rendere al meglio quello che volevi raccontare quindi in realtà quello secondo me lascia il tempo che trova come come difetto se vogliamo considerarlo tale quindi considerandolo come firma se per me non è veramente niente di che quindi questo è quello che pensavo in maniera più generica circa tre piani fatevi sapere un conto qui sotto cosa ne pensate voi adesso però parliamo in maniera un pochino più specifica quindi io vi abbraccio grazie per aver inserito fin qui per quanto riguarda la parte non spoiler vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video qui sul canale movie planet se il film non l'avete visto se invece l'avete visto dovete sapere la mia più nello specifico gli spoiler iniziano tra tre due uno la questione della della storia del giudici allora questi qui hanno trattato il figlio come se fosse uno stronzo una volta otto anni aveva rubato dei soldi dal portafoglio del padre il quale ha simulato un processo in salotto dicendo cosa hai da dire a tua difesa mettendolo sullo sgabello come se fosse alla sbarra non è normale questa cosa qua il figlio investe una donna mentre ubriaco cerca di farsi aiutare i genitori dicendo ma si dai non potete farvi farmi giudicare da un vostro amico e allora il padre dice tu non stai scherzando tu vai in galera e stai anche zitto allora il figlio picchia il padre va in galera prima di andare in galera lo trovano ancora ubriaco in giro e il padre dice alla moglie io non voglio più rapporti con lui scegli o me o lui se avrai rapporti con lui non potrai averli con me la moglie che succube decide sceglie di fondamentalmente seguire il marito per anni va a trovare il figlio in galera di nascosto dal marito ma il figlio capisce questa cosa e non vuole e taglia i ponti con tutti poi il marito muore lei cerca di trovare la sua strada e lascia questi messaggi in segreteria per parlare con lui perché non si sente sicura non si sente tranquilla parlare con una lapide perché dice che non crede in queste cose e alla fine trova la sua strada va dal figlio lo trova che abita in campagna che ha avuto un figlio anche lui e si riappacifica in un certo senso la storia del personaggio di scamarcio lasciano praticamente questi bambini questa bambina loro figlia marito moglie la lasciano ai vicini sotto che sono due anziani l'uomo della coppia è ovviamente malato di demenza senile un giorno lasciano la bambina che la moglie dell'uomo non c'è e l'uomo vuole portarla a prendere un gelato e poi si perdono la bambina lo porta nel parco e da quel momento per anni il personaggio di scamarcio sarà ossessionato dall'idea che l'uomo abbia abusato della figlia stava poi a scoprire alla fine quando la figlia parte per la spagna che ormai ha 17 anni che non era mai successo niente cosa che mi dicono che nel romanzo non si viene a sapere e quindi è molto più interessante sapere che quest'uomo rimarrà con la sua ossessione per tutta la vita perché poi nel frattempo la nipote della coppia di anziani era arrivata lì cerca di sedurlo lui fa sesso con lei scoprendo che era vergine e lei spinta dalla madre e dalla nonna lo denuncia per moleste sessuali un processo che va avanti per anni e da cui lui viene assolto e alla fine si conclude con lei che dice scusami gli fa no ma non ti preoccupare ok mi ha fatto passare per il mostro di Dusseldorf per anni ma che sarà mai no però vabbè e poi c'è la questione della Rohr Wacker che piano piano inizia a sprofondare anche per via della solitudine in cui si trova nella depressione e nella stessa malattia che ha la madre e continua a vedere questo uccello questo corvo spaventoso che la guarda e la fissa e lei non capisce cosa voglia fino a che a un certo punto ha il secondo figlio probabilmente la depressione postpartum alla meglio e lei scappa convinta che sta facendo un viaggio con la madre ma in realtà no e l'unica cosa che mi è piaciuta è che quando la figlia e il padre stanno andando via dal palazzo che viene abbandonato da tutti in realtà la famiglia della Rohr Wacker sta semplicemente andando dai nonni ma per l'appunto la bambina si gira e vede la madre che sta rientrando al palazzo che per alcuni può essere il senso che lei è tornata ma siccome è molto irreale come scena quello che sta succedendo davvero è che probabilmente la figlia sta iniziando a manifestare gli stessi sintomi della malattia che ha la nonna e che ha la madre quindi secondo me è un po' un finale abbastanza cattivo e quello mi è piaciuto quello devo essere sincero non mi è dispiaciuto ma per il resto per l'amor del cielo no per l'amor del cielo il film è veramente noioso tedioso proprio proprio quel classico dramma all'italiana che ogni volta che ogni volta mi danno fastidio cioè non sono proprio riuscito a dire ah ma che film interessante non ci ho trovato reali spunti di riflessione ci ho trovato solo una gestione pomposa una regia che vorrebbe essere interessante ma non lo è insomma è un film per me molto mediocre che viene da alcuni osannato come se fosse un capolavoro e sinceramente io non riesco a capire come mai devo essere sincero tra l'altro io credo che il tentativo di finire queste storie a Tara Lucevino sia proprio il problema del film cioè la storia della figlia l'ho voluto interpretare io la storia della cosa della Rovac l'ho voluto interpretare così magari veramente neanche è tornata io spero che sia un finale così un po' agrodolce invece la moglie che si dia pacifico col figlio e il padre che finalmente scopre che la sua ossessione non aveva senso perché la figlia non è mai stata toccata da quell'uomo tutte queste storie finiscono in un modo comunque bene o male tranquillo tranne quella della Rovac che è quella più traballante che senso ha? secondo me sarebbe stato più bello non dico se fosse finito tutto in tragedia ma se ci fosse stata un'ambiguità nel finale come c'è nella scena con la Rovac avrei preferito di gran lunga sinceramente qui sta la pomposità del film tu vuoi farmi il pizzardone tutto filosofico che poi alla fine mi fa il finalino a tarallucevino ecco questa cosa no perché va cozza completamente contro il senso del film stesso a mio modesto parere ma voglio sapere voi cosa ne pensate se fate spoiler raccontate il vostro commento legito la spoiler così non roviniamo il film che colonna ha visto io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti